Amici miei aiuto Vi voglio domandare Il figlio di Mariano bisognerà provare Il padre l'ha mandato a casa da comare Con una pizza in mano ben calda da portare Passati sono i giorni e non si vede niente Né Peppe né ha pizza E vuol sapere la gente A visto a Peppe, il hijo de Mariano Se perdiò en la bocca con una pizza in mano A visto insieme a Peppe, il hijo de Mariano Se perdiò en la bocca Con una pizza in mano Il coltello è il belito del Mariano, c'è il peggio della oca con una vittima. Alcette, 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 a dove sta? Alcette, 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 a dove sta? Chiamarono Sherlock Holmes con l'aviazione e la città intera si trova in confusione. Lo cercano per terra, lo cercano per mare, lo cercano nell'aria ma non si può provare. Bomberos della bocca stanno cercando tanto, non dormono, non mangiano con lacrime di pianto. Ho compato Francesco Pedi Piatti, Don Carmen Mustazzone, Donne Gambella in pricchi e in pracchi, amici, tutte, per favore, ditemi. Ha visto stella Pepe, il lico del Mariano, se perdi ove la bocca con una pizza in mano? Ha visto stella Pepe, il lico del Mariano, se perdi ove la bocca con una pizza in mano? Morito stella Pepe, il lico del Mariano, se perdi ove la bocca con una pizza in mano? Alpepè, alpepè, alpepè adonisirà Alpepè, 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 alpepè adonisirà Ave, ave, ave!